Oggi in questa cattedrale contempliamo tutto il popolo di Dio che segue l'unica chiamata a essere suoi, gerarchia, ministri del servizio presbiterale, diaconale, tutti i ministeri istituiti e tutti quelli che compongono e arricchiscono il popolo di Dio, il corpo della chiesa, questa sua famiglia. Così il cardinale Matteo Zuppi durante l'omelia pronunciata lo scorso 21 ottobre in San Pietro nel giorno della dedicazione della cattedrale concelebrata insieme al clero diocesano. Durante il rito sono stati anche ricordati i sacerdoti ai diaconi bolognesi deceduti nel corso dell'ultimo anno. La messa è stata preceduta da un ritiro spirituale tenuto dal vicario episcopale per il laicato Don Davide Baraldi e incentrato sulla fraternità sacerdotale. Siamo chiamati personalmente ma siamo chiamati in un corpo e questo non è una cosa astratta ma molto reale con i tratti concreti ripeto a volte deludenti come sempre la nostra carne eppure proprio perché è umana con un amore spirituale e pieno. Papa Benedetto citò Crisostomo il vincolo disse riprese con cui ci leghiamo insieme non è una catena che ferisce possiamo aggiungere che ci limita legatevi ai vostri fratelli quelli così legati insieme nell'amore sopportano tutto con facilità e poi aggiungeva così egli vuole che siamo legati gli uni gli altri non solo per essere in pace non solo per essere amici ma per essere tutti uno un'anima sola si è proprio vero è un legame che ci libera che ci permette di essere insieme e ma non uguali originali e uniti e di esserlo in un mondo così individualista in un mondo che così poco sa vivere l'amore è una dimensione affettiva grazie a tutti